Stile differente, da strada. Chi è? Mino Raiola. Ho fatto il primo meeting, inizia a portare Fogli fuori e mi fa... Questi sono grandi giocatori con statistiche. Mi porta fuori Cevchenko, 25 partite, 23 gol. Mi porta fuori Insaghi, 27 partite, 25 gol. Mi porta fuori Bobo Vieri, 24 partite, 23 gol. E porta fuori Ibrahimović. 21 partite, 4 gol. Come ti posso vendere se hai queste statistiche? Io ho detto, però se avevo altre statistiche come loro, non mi serviva un procuratore. Pure mia mamma mi vendeva. Per quello mi serve un procuratore. E lui rideva.